L'ordine del giorno rega l'audizione del condirettore generale dottor Salvatore Poloni ed il responsabile commerciale dottor Matteo Faisola del Banco Popolare di Milano. La Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni sul tema dell'attuazione degli interventi previsti del DL 18 e 23 del 2020 relativamente al settore bancario e finanziario per i sossegni alle aziende ed imprese colpite dall'emergenza epidemiologica. Sono stati auditi i componenti della Task Force Banca Italia Abbi, Mediocredit Centrale, Sace, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Ministro del Risviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dei miei quartieri. Lo scorso 17 giugno sono stati auditi gli esponenti di Intesa San Paolo, S.P.A., il 23 giugno i rappresentanti di Asso Popolari, il 7 luglio di Unicredit, il 14 luglio il presidente della Consob, il professor Paolo Savona e il 21 luglio i rappresentanti di Federcasse. Nel corso delle prossime settimane saranno audite in materia le ulteriori banche significant quotate. Il trend sull'attuazione delle misure citate nel corso dell'audizione con Banca d'Italia dell'11 giugno scorso è apparso in crescita. Oltre alle misure di moratoria, fondo Gasparini e sui prestiti, che si sono rivelate particolarmente efficaci, anche il tasso di erogazione dei prestiti sino a 25.000 euro, poi elevato a 30.000 in sede di conversione del DL23 del 2020, mostra un trend positivo. Nonostante si registrino tali miglioramenti, occorre favorire il più possibile l'attuazione da parte del sistema finanziario delle misure varate dal governo a sostegno delle famiglie e delle imprese. Nella citata audizione la Banca d'Italia ha evidenziato che relativamente all'erogazione di prestiti garantiti è emerso un quadro non molto chiaro e disomogeneo, da cui emergono ancora ritardi non condivisibili. In particolare, la Banca d'Italia ha mostrato che la percentuale di finanziamenti erogati rispetto alle domande presentate si attesta intorno al 60%. Il questionario sottoposto agli istituti facenti parte del sistema bancario da parte di Codessa Commissione d'Inchiesta ha altresì evidenziato che i tempi di erogazione del credito garantito sono molto idrogeni tra le diverse banche. Do pertanto la parola al dottor Salvatore Poloni ringraziandolo per la disponibilità manifestata a collaborare con la Commissione. Prego. Grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli componenti della Commissione d'Inchiesta. Innanzitutto volevo ringraziarvi anche a nome del gruppo Banco BPM per l'opportunità che ci date di poter fare riferimento all'attività che noi abbiamo svolto in questo periodo e che stiamo continuando a svolgere anche per aiutare il sistema ma comunque in generale per fronteggiare l'emergenza che ha colpito il nostro Paese e purtroppo non soltanto il nostro Paese. Io farò una brevissima introduzione per quello che riguarda il gruppo per poi entrare un po' più nel merito degli argomenti che sono stati richiesti dalla Commissione anche con la compilazione delle tabelle che ci sono state fornite. Il gruppo Banco BPM nasce il primo gennaio del 2017 dalla fusione della Banca Popolare di Milano e del Banco Popolare. Questo lo ricordo perché certamente è un fatto significativo... Il Banco Popolare è con sede in Verona che è tra l'altro a sua volta... Sì, sì, no, conosco... Il Banco Popolare di Milano va... Il Banco Popolare di Milano va... No, però questo mi dà l'occasione per precisare un fatto che è importante anche ai fini delle soluzioni organizzative e operative che poi per fronteggiare la crisi abbiamo messo in atto perché in realtà è proprio la nascita della nuova banca che è la somma di tante banche del territorio perché c'era la Banca Popolare di Verona, il credito bergamasco, la Banca Popolare di Lodi, la Banca Popolare di Novara, le casse di risparmio di Lucca, Livorno e Pisa, il Banco di Chiavari e sicuramente ne sto dimenticando molte. Questo però proprio per dire che in realtà il Banco BPM nasce proprio come somma di banche locali. Dalla figura 1 del documento che abbiamo trasmesso, voi vedete proprio che la capogruppo, quindi Banco BPM, è quella che come dirò tra un attimo svolge l'attività bancaria vera e propria. Rappresentate sulla sinistra sono le banche e le business unit specializzate, Banca Letty che è la banca private del gruppo, cioè la banca che segue e gestisce i clienti con oltre un milione di depositi, Banca Acros che è la Corporate Investment Bank del gruppo e WeBank che è la business unit che segue i clienti digitali con una piattaforma di trading dedicata. Ci sono poi le principali partecipazioni strategiche, Agos per il credito al consumo, Anima per l'asset management che è il più grande asset manager indipendente in Italia e per quanto riguarda invece i prodotti assicurativi, la collaborazione con il gruppo cattolica con Vera Assicurazione e con BPM Assicurazioni. Come è articolata oggi la banca sul territorio? Il segmento retail che è quello che ricomprende i privati, i piccoli operatori economici, le piccole e medie imprese fino ad arrivare a imprese con 75 milioni di fatturato, quindi insomma imprese anche con una certa importanza e una certa rotondità sono servite da 8 direzioni territoriali di ambito macro regionale, 45 aree territoriali, cosiddette aree affari e 1727 filiali. Il corporate e quindi i clienti che superano i 75 milioni di fatturato è articolato sul territorio con 5 mercati corporate, 18 centri corporate e una struttura per il large corporate che segue i clienti con oltre un miliardo di fatturato, quindi insomma le imprese di grandissime dimensioni. Abbiamo circa 4 milioni di clienti, 110 miliardi di euro di raccolta e 106 miliardi di impieghi. Le filiali qui le vedete indicate in 1784 perché alle 1727 del retail si sommano le 55 filiali di Banca Letty e poi la filiale di Banca Acros e di WeBank. Le quote di mercato del nostro gruppo sono il 7,4% a fine 2019 ma in 18 province sono oltre il 18%. Nella figura 2 vedete la ripartizione regionale, siamo presenti su tutto il territorio nazionale ancorché poi le presenze nelle varie regioni per le origini storiche che ricordavo prima sono concentrate maggiormente in alcune regioni. Come è stata gestita l'emergenza? Allora, innanzitutto il primo scrupolo, la prima attenzione è stata quella di garantire da un lato la continuità operativa, dall'altro lato la tutela e la salute dei colleghi. Fin dalla dichiarazione della prima zona rossa, quindi dell'area del Lodigiano e noi con la popolare di Lodi, ma non soltanto con la popolare di Lodi che fa parte del gruppo, siamo radicati in quel territorio, quindi abbiamo vissuto l'impatto fin dall'inizio e voi ricorderete che immediatamente era stato previsto che oltre a dover chiudere nell'ambito delle zone rosse, però le persone che risedevano nelle zone rosse non potevano uscire, e viceversa le altre non potevano entrare. Il che ha voluto dire per noi che i colleghi che dalle zone rosse dovevano lavorare fuori dalle zone rosse sono stati dispensati per stare all'attività lavorativa, coloro che da fuori dovevano andare a lavorare lì altrettanto, oppure sono stati distribuiti negli altri punti operativi, ma abbiamo comunque garantito, oltre a tutta l'attività online, anche il funzionamento degli sportelli Bancomat durante tutto quanto il periodo, questo grazie anche alla disponibilità dei colleghi in collaborazione con le forze dell'ordine che consentivano di poter fare questo tipo di attività. Le disposizioni di vigilanza prudenziale, quindi la regolamentazione delle banche, prevedono che ci siano per tutte le situazioni di crisi che si possono verificare e quindi anche quelle che possono riguardare le calamità naturali come terremoti, oltre che altre situazioni, prevedono i piani di continuità operativa e quindi prevedono i comitati di crisi, immediatamente è stato convocato il comitato di crisi che già nel fine settimana, che è partito dal venerdì 21 fino alla domenica 23, ha rifatto quella che in gergo tecnico si chiama la business impact analysis, vale a dire che cosa bisognava fare per garantire i servizi essenziali, assegnatamente tutto quello che regola i sistemi di pagamento, la tesoreria, la finanza, eccetera, anche nel sistema interbancario, perché evidentemente questo potrebbe avere altrimenti delle conseguenze, diciamo così, sistemiche. Abbiamo continuato a lavorare in questa direzione, il comitato di crisi si riuniva e si è riunito per parecchie settimane, più volte al giorno e poi continua a riunirsi tuttora con cadenza periodica, collaborando con i vari organismi di Banca d'Italia, il codise di abi altrettanto e il coban che è il comitato banca note che è costituito da abi, poste e ministero dell'interno, perché evidentemente la mancanza di costi di contante può chiaramente rappresentare un elemento di crisi per il Paese. Il piano di continuità operativa, appunto, dicevo immediatamente ha previsto quello di, e questo anche grazie al fatto che nasciamo come più banche, di poter attuare dei piani di recovery dal punto di vista proprio territoriale, quindi attivare ulteriori siti rispetto a Milano e Verona, che sono i due siti principali della banca dove è distribuito anche il centro elettronico, ma anche quindi su Novara, su Bergamo, eccetera, e successivamente l'estensione dello smart working e questo ha consentito di cogliere due opportunità. Da una parte tenere in sicurezza i colleghi che evidentemente potevano rispettare anche le indicazioni di non uscire di casa, poi sapete che il DPCM dell'8 di marzo ha consentito di poter attuare lo smart working anche in assenza di contratti individuali, eccetera, che peraltro comunque poi comunque abbiamo fatto. Dall'altra parte l'operatività da remoto ha anche limitato molto il rischio contagio, perché pure colleghi che sono risultati, per fortuna nella stragrande generalità dei casi, senza particolari conseguenze, sono risultati positivi nel momento in cui lo erano da casa, è chiaro che questo non pregiudicava la possibilità di poter continuare ad operare per gli altri colleghi. Naturalmente lavorando in maniera più estesa dal punto di vista della connessione dei colleghi da remoto, ma anche dei clienti che fruivano maggiormente dei servizi bancari da remoto, si è investito e si è posta molta attenzione su tutti gli aspetti di cyber security e di monitoraggio di tutti gli elementi IT, perché naturalmente da un certo punto di vista anche la criminalità, ma anche gli elementi di rischio, eccetera, si moltiplicavano e quindi sono state messe in atto tutta una serie di misure e di monitoraggi e di informazioni, di email, oltre che messe sul sito, anche di email mandate ai clienti per prestare attenzione. La banca mai chiede di comunicare le proprie credenziali, eccetera, quindi se qualcuno spacciandosi per la banca lo chiede, insomma le cose che ormai tutti quanti conosciamo ma che è stato necessario ed è ancora necessario continuare a ripetere. Per quello che riguarda le filiali abbiamo attivato la turnazione nell'ambito delle filiali, quindi qui, diciamo così, chiudendo quelle di maggiore dimensione sono state create delle squadre che si alternavano settimanalmente all'interno delle filiali in modo tale che nel caso malaugurato che ci fosse una situazione di contagio era possibile chiudere la filiale, fare la significazione e subentrava l'altra squadra che, diciamo così, si alternava e non entrava mai in contatto con la prima. e poi la gestione all'interno della filiale evidentemente per evitare gli assembramenti. Tutto questo con un'attività di informazione e di formazione cercando oltre che di rendere assolutamente tempo per tempo note tutte le disposizioni che il governo via via emanava anche di essere chiari, semplici e il più possibile uniformi perché appunto essendo presenti su tutto il territorio c'era bisogno di dare indicazioni univoche sia ai colleghi che ai clienti e che i clienti trovassero gli stessi comportamenti nelle diverse filiali. Per questo, come ho accennato prima, è stata creata la sezione dedicata in cui sono state anche rese note, oltre appunto le misure del governo, anche quelle che riguardano i finanziamenti, le modalità di accesso in filiale, le richieste di moratoria, le fac per le richieste più frequenti che pervenivano anche al nostro contact center e tutto quanto utile, sia per i clienti privati che per i clienti imprese. Poi sul nostro sito esiste anche un sistema che chiamiamo locator che fondamentalmente ovunque si trovi il cliente dice qual è la filiale più vicina con le indicazioni, i riferimenti telefonici e la modalità di accendere. Il nostro amministratore delegato, il dottor Castagna, ha scritto ai clienti, oltre che per esprimere vicinanza in questo tragico momento, anche per ricordare il nome del collega e il numero di telefono al quale i clienti potevano rivolgersi per ogni necessità. Sono state mandate oltre un milione e mezzo, un milione e sei di email ai clienti, anche attraverso i social è stata fatta informazione, oltre che sui canali Uweb e WeBank, che sono i canali online della banca. Anche per i colleghi, ho già detto, sono stati complessivamente comunque emessi 300 documenti e 30 note informative pubblicate per i colleghi sostanzialmente ad oggi. L'altra attività ha riguardato la semplificazione della gestione operativa, nel senso che sia per quello che riguardava i clienti principalmente, ma naturalmente anche per i colleghi che si trovavano a operare in queste condizioni particolari, si è cercato di lavorare su processi e procedure, e poi lo vedremo segnatamente per quello che riguarda le misure adottate per far fronte alle esigenze di liquidità, per semplificare il dialogo operativo con i clienti. delle zone rosse, ho già detto e non mi ripeto, le prime cose che sono state sperimentate da subito, attuate da subito per le zone rosse e poi via via evidentemente estese a tutto il territorio nazionale, a tutte le filiali, anche per coloro che non erano già abituati a fruire dei servizi bancari con le modalità online e quindi non avevano il servizio online, gli è stata data la possibilità di avere informazioni o per email o per telefono, informazioni sui rapporti, adesione alle moratorie, disposizioni sui bonifici, F23, F24, pagamento dei bollettini, ricariche prepagate, perché naturalmente le persone uscendo meno di casa non andavano a prelevare, avevano più bisogno di utilizzare le carte di credito, revoche e addebiti diretti, disposizioni continuative di pagamento, blocchi e sblocchi delle carte di pagamento, consulenza finanziaria e disposizioni di ordine finanziario. Altrettanto è stato fatto per le imprese, anche qui c'è l'elenco, evidentemente le imprese sono già un po' più abituate ad avere questa modalità da remoto, ma anche questa è stata estesa, anche qui le richieste di informazioni, la trasmissione dell'adesione alle moratorie, l'anticipo fattura, finanziamenti, anticipi sui flussi estero, crediti di firma, li trovate scritti, non sto a leggervi tutto se non ci sono domande di approfondimento. Cosa è stato attuato proprio come elemento di contingency? E quando dico elemento di contingency vuol dire che queste cose che sto per dire sono state adottate di default nei confronti di tutta la clientela, senza bisogno che arrivasse la richiesta e senza necessità che i colleghi si attivassero, l'abbiamo fatto intervenendo sui sistemi centralmente, quindi proroga massiva degli anticipi fatture Italia con scadenza a marzo e ad aprile. Stiamo parlando di 55.000 proroghe per un ammontare di 2,4 miliardi di euro. Proroga massiva degli anticipi fatture estero, anche qui marzo e aprile, 46.500 proroghe per un ammontare di 3,7 miliardi di euro anticipati. E sospensione della rata di marzo su tutte le forme tecniche rateali, sospese 125.000 rate per 2,9 milioni di euro. Dopodiché poi sono intervenuti i decreti di cui adesso parleremo e quindi le moratorie eccetera, così come disciplinate. Però questa è stata la prima risposta che abbiamo dato per la prima zona rossa, voi Uganio non ci ha visto presente eccetera, e che poi abbiamo esteso evidentemente a tutto il territorio nel momento in cui poi rapidamente ai noi si è estesa la pandemia. A disposizione dei clienti, sia aziende che commercianti, che terzo settore, che professionisti sono stati messi a disposizione 5 miliardi di euro di plafond, 3 miliardi per le imprese, un miliardo per i professionisti e un miliardo per i commercianti, fino a 24 mesi. Tra le altre misure, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni, sono state attuate le moratorie bilaterali in base al protocollo ABI e per l'attività, prosegue tuttora per i clienti, imprese, tutta l'attività prevista dal decreto legge. Con riferimento all'articolo 56 del decreto cura Italia, poi saremo più precisi nell'ambito delle tabelle, sono state accordate 59 mila moratorie per un ammontare di capitale pari a 12,5 miliardi di euro, circa il 90% delle richieste sono state ricevute via mail o via PEC, questo sempre per facilitare il dialogo. Con riferimento all'articolo 13 del decreto cura Italia, quindi con garanzia al 100%, fino a 25 mila euro dall'inizio poi estesa a 30 mila euro con la conversione in legge, abbiamo ricevuto 57 mila e 800 richieste, delle quali 51 mila 578 erogate per oltre un miliardo. Questo ha creato notevoli impatti operativi. Per darvi un ordine di grandezza, queste erano operazioni che a noi arrivavano nell'ordine di circa 4 mila all'anno e in quei giorni ne arrivavano 6-7 mila al giorno, quindi una mole di attività che è stato possibile fronteggiare con le misure che adesso vi dico e devo sottolineare anche con un dialogo, con una collaborazione che senza limiti di tempo, di orario e di giorni si è instaurata con Medio Credito Centrale, evidentemente per far fronte a questa mole di attività straordinaria. E quindi come prima cosa noi questo tipo di attività lo gestivamo con una struttura specializzata perché i numeri, voglio dire, in realtà suggerivano questa soluzione organizzativa, quindi la prima misura è stata quella di creare un'atta sforza a supporto della struttura specializzata formando e adibendo a questa attività 150 colleghi. È chiaro che però questi numeri e la distribuzione sul territorio non consentivano di procedere soltanto con una task force e ancora una volta richiamo la nostra origine, la nostra articolazione territoriale, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato il processo e le procedure informatiche con grandissima disponibilità da parte dei colleghi dell'organizzazione dell'IT eccetera e formato 1300 persone distribuite su tutte le filiali. Anche qui ricordo dopo aver fatto tutta l'attività una riunione virtuale perché naturalmente le modalità erano quelle tenuta un sabato 2 maggio dopo aver finito di lavorare alle procedure per allineare tutti quanti i colleghi e consentirgli dal lunedì successivo di poter partire. E devo dire che questa è stata un po' la soluzione che anche in termini di lavorazione dei volumi ci ha fatto un po' svoltare perché da una parte i clienti distribuiti sul territorio conoscevano i clienti, avevano la relazione con il cliente, avevano i numeri di telefono, avevano i recapiti, spesso avevano la documentazione che riguardava il cliente in filiale e quindi potevano aiutarlo anche nella fornitura dei documenti che erano indispensabili e superato poi con gradualità anche il tema dell'invio di tutte queste pratiche al medio credito per avere poi il riscontro del riconoscimento della garanzia, insomma poi i numeri che ho citato prima credo che confermino il lavoro che è stato fatto. Poi c'è stato l'allungamento del periodo e anche dell'ammontare fino a 30.000 euro, le pratiche che erano in itinere noi nel momento in cui sono intervenuti 30.000 euro le abbiamo lavorate in diretta, abbiamo chiamato il cliente e abbiamo detto visto che la pratica è ancora conclusa se c'è bisogno di prima di concluderla la mettiamo direttamente dentro o allunghiamo il periodo. Le altre che erano invece già concluse quelle le stiamo recuperando. Per quello che riguarda invece finanziamenti a garanzia, quindi sopra i 25 poi 30.000 euro con garanzia all'80 al 90%, anche qui stiamo parlando di 16.000 pratiche di cui 11.700 quasi già deliberate e di queste 4.500 erogate. Devo dire che nel momento in cui il cliente ha la notizia della delibera il cliente è anche già tranquillo, vuol dire che la pratica sia andata a buon fine, poi è chiaro bisogna concludere rapidamente alla fine del processo anche l'erogazione. Anche qui è stata creata una task force, devo dire che per questa tipologia di operazioni con imprese un po' più strutturate la task force centrale risponde bene alle esigenze. Ci sono poi le operazioni sace e qui abbiamo fatto 19 erogazioni per circa 200 milioni di euro. Per quello che riguarda i privati, qui c'è la tabellina che riassume tutti i dati che ho detto. Devo dire che il dialogo con la clientela è stato un dialogo concentrato soprattutto sulla verifica dell'assenza di elementi pregiudizievoli e quindi che ci fossero i requisiti fondamentalmente previsti dal decreto. Per quello che riguarda i privati, 11.050 moratorie per un importo di 1,3 miliardi complessivi. Anche qui per quello che riguarda l'articolo 54 del Cura Italia 21.000 richieste, 8.004 già inserite a portale CONSAP, quindi comunque un'attività in itinere. La cassa integrazione è stata totalmente evasa. Anche qui come nel corso di un incontro avuto ieri col Minestiero del Lavoro sottolineavamo, soprattutto il dialogo con l'Inps è un dialogo molto fluido. Noi da sempre mettiamo in condivisione i dati attraverso database condivisi. Quindi il dialogo con l'Inps è la parte che è più semplice da questo punto di vista. Da ultimo, vorrei piacere di sottolineare come ancora una volta, e mi scuso perché l'ho ripetuto fin troppe volte, ma l'origine territoriale e la vicinanza ai territori è stata dimostrata anche dagli interventi di donazione e di raccolta fondi, e quindi di destinazione della raccolta fondi che è stata fatta perché vedete che dall'Istituto Spallanzani di Roma, l'Ospedale Sacco di Milano, la Caritas, il Banco Alimentare, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, di Novara, la Croce Verde di Reggio Emilia, la Fondazione La Voce delle Creature di Napoli, l'Associazione Emmaus di Lodi, la Banca Biologica, autovetture, dispositivi di protezione individuale, caschi e ventilatori, pasti e utenze, perché sappiamo che c'è stato anche questo elemento di criticità, sostegno ai minori e agli anziani, la ricerca, la donazione anche di computer per le scuole per consentire anche ai ragazzi più svantaggiati di poter seguire le lezioni, e qui tutte le città che sono state un po' destinatarie di questi interventi, proprio perché sentivamo l'esigenza di doverli veramente distribuire sul territorio. Quindi, prima di lasciare la parola al dottor Faisola per entrare più nel merito dell'attività, ecco, rispetto a una mole di attività iniziale, credo che le misure organizzative messe in essere e consolidate e illustrate ai colleghi anche con regolamentazione preventiva, finché loro fossero tranquilli nel loro operato, hanno consentito di rispondere in maniera flessibile alle richieste che sono pervenute dai clienti. Ovviamente, ecco, nel momento in cui dico sono pervenute, anch'io uso un'espressione che riguarda il passato, lo dicevamo anche prima ai noi, l'emergenza da un punto di vista sanitario nel mondo e anche nel nostro Paese non possiamo dire che sia conclusa o completamente conclusa. Certamente gli impatti di natura economica non lo sono e quindi il livello di attenzione e anche le misure non ne abbiamo anche indicate poi le spiegherà il dottor Faisola proprio nell'ultima scheda che era stata richiesta perché insomma riteniamo che si debba continuare ovviamente ad avere attenzione per larga parte dell'economia e in particolare per taluni settori che più di altri evidentemente sono un po' colpiti da questa pandemia e dagli effetti della pandemia. Grazie per l'attenzione e lascio la parola al dottor Faisola. Allora magari noi seguiamo un po' le schede che così insomma che giustamente ci avete fornito e naturalmente buongiorno a tutti ai componenti della Commissione, alla Presidente anche da parte mia. Ma allora nella prima parte delle schede ci sono elementi macro... Sì dottor Faisola, sì perché se no nessuno la vede, non è inquadrato tra l'altro. Sì dottor Faisola, grazie. Dicevo, magari esaminiamo insieme le tabelle e ci soffermiamo particolarmente su quelle relative poi ai provvedimenti che sono stati attuati. Nella tabella 1 vedete il margine di intermediazione del nostro istituto nella prima linea, quindi 4 miliardi e 81 milioni di euro e nei quattro elementi sotto che costituiscono un po' il core business potete vedere insomma il tema del margine finanziario, nonché le commissioni dai finanziamenti, il tema dei margini connessi alla raccolta, nella penultima i servizi transazionali, cioè gli strumenti di pagamento e l'ultima il tema dei servizi di investimento e quindi tutto il tema del well management e del risparmio. Nella tabella 2 potete vedere che insomma tutta la nostra attività in pratica è svolta con clientela italiana. Nella tabella 3 ecco un elemento che può essere di interesse della commissione è legato al totale degli impieghi, nel totale degli impieghi queste sono voci di bilancio però il punto che penso sia di interesse della commissione è quello che questi sono gli impieghi totali nei quali circa 10 milioni sono operazioni sull'interbancario quindi fatte con istituzioni finanziarie ma la parte assoluta più significativa oltre 96 miliardi sono operazioni con la clientela e il punto che può essere di interesse di tutti noi e della commissione è che gli impieghi alla clientela quindi alle aziende e ai privati dall'inizio dell'anno abbiamo fatto un dato a ieri sono cresciuti di quasi 4 miliardi di euro quindi insomma anche il frutto della azione legata ai decreti e delle erogazioni nonché di una ripresa in questo ultimo mese e mezzo dei mutui casa che ha avuto una buona ripresa e ci dà fiducia fa sì che gli impieghi alla clientela siano cresciuti di quasi 4 miliardi di euro nella tabella numero 4 la tabella numero 4 vedete la liquidità che è aggiudicata presso la bce quindi le operazioni di rifinanziamento ecco quindi qui la i denari prezzo la bce sono destinati al finanziamento indistinto delle attività in bilancio quindi non è che questi denari siano legati a specifiche attività e quindi possano essere divisi o spacchettati nelle diverse categorie tuttavia l'elemento anche questo che possa essere penso possa essere di interesse della commissione e che i prestiti idonei cioè i prestiti che possano essere possono avere la caratteristica di collaterale per avere le operazioni di rifinanziamento che sono poi i finanziamenti alle imprese o i finanziamenti ipotecari alle persone fisiche che noi abbiamo sono oltre 64 miliardi e soprattutto il punto il punto vero core è che dall'inizio di marzo le erogazioni che abbiamo fatto al netto dei rimborsi hanno un saldo positivo di 3 miliardi e quindi c'è una crescita della liquidità messa a disposizione dei clienti. Nella tabella numero 5 vedete un po' una riclassificazione del conto economico quindi il margine finanziario che insomma in questo momento per tutto il sistema bancario tende a contrarsi il tema delle commissioni poi vedete le due voci risultato netto dell'attività di inevocazione e saldo altri proventi oneri che sono due voci che usualmente nella riclassificazione che si fa negli analisti poi sono poi un po' comprese in un'unica voce che rappresentano un po' l'attività finanziaria nonché l'attività sulle partecipazioni quindi noi abbiamo avuto anche una cessione di una partecipazione quindi vanno letti il più 455 e meno 178 sostanzialmente in un'unica voce per ciò che ci riguarda le spese per il personale i costi operativi ma poi penso che la voce che sia di interesse insomma della commissione sia quella del tema delle rettifiche su crediti che andiamo poi a leggere con lo stock di crediti deteriorati quindi la parte di conto economico vedete che le rettifiche su crediti passano da 1 miliardo 680 a 724 milioni con una contrazione molto significativa e poi il risultato netto di gestione sono 800 milioni e a questo punto direi di collegare proprio queste rettifiche nette su crediti con la tabella 6 con lo stock per lo stato patrimoniale lo stock di crediti che hai e vedete quella che è un po' un'azione veramente decisiva che ha caratterizzato in questi anni la nostra banca vedete il calo delle sofferenze lorde che passano dai 14 miliardi del 2017 ai 10 miliardi del 2018 ai 3 miliardi 8 del 2019 probabilmente avessimo anche il 2016 sarebbero state mai ancora più alte e lo stesso con un passaggio più lento ma gli UTP o i vecchi incagli oggi sono gli UTP anche questi scendono e quindi insomma la qualità del credito è andata assolutamente a migliorare noi oggi abbiamo in sostanza posizioni deteriorate lorde sull'attivo inferiore al 9% le sofferenze nette questa è la stessa voce al netto con gli accantonamenti e vedete che in sostanza soprattutto le sofferenze hanno un valore netto inferiore ai 2 miliardi e quindi un valore che insomma dà un po' il senso di tutto il lavoro che è stato svolto in questi anni la tabella numero 8 sono i dipendenti cioè quanti siamo a lavorare siamo 22.000 persone 21.941 praticamente quasi tutti in Italia le nostre filiali sono 1784 filiali come diceva prima il dottor Poloni 1727 sono filiali retail poi abbiamo i 55 centi private banca ACROS che è la banca d'affari poi abbiamo la tabella 9 ecco quindi nella tabella 9 entriamo un pochettino nel cuore dell'attività per cui insomma siamo qui per la commissione quindi i decreti e vediamo insomma nella parte alta della tabella le richieste che ci sono pervenute sui finanziamenti di 25.000 euro quindi vedete a aprile consideriamo che insomma tutti noi ricordiamo l'weekend insomma le richieste sono pervenute dal 20 dal weekend del 20 il 21 quindi in pochi giorni sono arrivate 12.800 richieste poi è arrivato maggio che è stato il mese più significativo 31.000 e giugno vedete poi nella colonna noi l'aspetto delle annullate archiviate noi abbiamo fatto in modo veramente che tutte le richieste fossero in qualche modo con un colloquio con il cliente tra virgolette rese bancabili corretto soprattutto l'allegato 4 perché poi questa operazione tanto per darvi il senso pratico i primi giorni il grande problema è stato la compilazione dell'allegato che il cliente doveva compilare ma non conosceva non lo sapeva e quindi insieme è stato compilato l'allegato 4 da mandare a MCC poi vedete le richieste declinate come dicevamo qui nel senso della legge noi abbiamo fatto una verifica di ammissibilità non abbiamo fatto su queste pratiche una valutazione del merito di credito e quindi non sono state accolte le pratiche o le richieste che presentavano dei pregiudizievoli la sofferei in gran parte una parte significativa perché il cliente aveva una presenza di sofferenze oppure altri elementi pregiudizievoli poi vedete un po tutto il flusso della lavorazione c'è ancora qualche elemento vedete le deliberate poi c'è l'invio a MCC e la tabella spiega proprio effettivamente tutto il flusso del lavoro il ritorno da MCC e le pratiche erogate il taglio medio del finanziamento è intorno ai 20.000 euro perché come è noto insomma il massimo del 25% del fatturato al doppio della spesa salariare e il tasso che è l'1,25 per questi tre mesi ecco noi abbiamo sul tema del tasso abbiamo anche per una forma di semplificazione un po' per tutti clienti e colleghi abbiamo applicato un unico tasso consideriamo che il 95% delle operazioni poi avevano la durata di 6 anni in una prima fase adesso di 10 ma in una prima fase di 6 anni e noi abbiamo ricordato diciamo l'elemento iniziale che aveva la formula del rendistatto più 0,20 più la differenza dello swap noi abbiamo applicato insomma il rendistatto più 0,20 era 1,03 rendistatto e 20 basis point quindi per ciò che riguarda l'operazione di 25-30.000 euro noi la possiamo considerare sostanzialmente conclusa per tutte le richieste di 25.000 euro l'abbiamo fatte tutte sono circa 47.000 richieste e adesso stiamo facendo le richieste che ci arrivano sui 30.000 euro però il flusso direi che è diventato un flusso ordinario sia come numero di richieste sia come capacità dei colleghi di caricare le garanzie quindi è diventato un tipo di operatività snella tranquilla adesso il cuore dell'azione direi da giugno ecco il cuore dell'azione si è spostata sulle pratiche più grandi cioè finanziamenti sopra i 30.000 euro queste hanno cominciato ad arrivare vedete alla fine di aprile su queste noi facciamo anche una valutazione del merito creditizio le pratiche hanno un taglio medio di circa 500.000 euro noi complessivamente come abbiamo fatto vedere nella tabella prima ne abbiamo erogate circa 4.400 pratiche vedete a lato il tasso medio che viene applicato e che ha un rispetto al tasso di simili operazioni senza la garanzia un calo abbastanza significativo intorno a 0.50 basis point nella seconda parte della tabella ci sono le rinegoziazioni dei debiti in estero cioè sono le stesse operazioni come sapete la lettera è ecco relativamente a queste operazioni mi piace evidenziare un po' questo uno dice è vero sono rinegoziazioni però noi abbiamo fatto una statistica che la parte aggiuntiva rispetto alle rinegoziazioni che la legge stabiliva prima il 10 poi il 25% minimo dopo il 19 di giugno la nostra abbiamo fatto una statistica circa il 50% in più rispetto al debito residuo che si è andato a estinguere e io penso che con queste operazioni abbiano un valore per lo meno analogo per il cliente come impatto sulla sua diciamo prosieguo aziendale rispetto alle posizioni di nuova finanza perché in effetti il debito viene allungato con un pricing anche più coerente oltre a esserci una parte di nuova finanza quindi oggi in questi giorni il cuore dell'attività dei nostri gestori e delle filiali si è un po' spostato dalle operazioni dei 25-30 miliardi che proseguono ma con una magnitudo minore a queste operazioni che rappresentano penso rappresenteranno fino alla fine di settembre è veramente il cuore dell'attività delle filiali oggi i nostri gestori essenzialmente il 90% della loro attività è seguire questo tipo di operazioni nella tabella 10 è la tabella delle moratorie ecco le moratorie allora come vedete la prima riga è l'articolo 56 la tabella è divisa nei tre mesi aprile maggio giugno ma in verità soprattutto sulle imprese il mese della richiesta delle moratorie è stato aprile come si diceva prima quando è successo il problema intorno ai prima parte di marzo la prima strategia è stata quella di posticipare in modo massivo le errate del 31 marzo e gli anticipi fatture e gli anticipi aspo del 31 marzo e questo secondo me è stata una questione fondamentale perché se uno non l'avesse fatto sarebbero peggiorati i rating cioè sarebbe stato un problema poi nel mese di aprile sono arrivate le richieste di moratoria all'articolo 56 come vedete le abbiamo accolte in toto per i 12 miliardi è un provvedimento assolutamente coerente infatti poi noi proponiamo una delle nostre proposte molto pragmatica è di posticiparlo magari dal 30 settembre fino al 31 gennaio gran parte delle proroghe è di finanziamenti rateali ma c'è anche qualcosa di finanziamenti o di linee di credito a breve termine passando sotto al fondo gasparrini l'articolo 54 allora anche questa è un'operazione molto importante aprile sono arrivate 12 mila richieste adesso siamo arrivati a 21 mila a 21 mila richieste ecco qui l'iter è stato un po più complesso è stato un po più complesso perché in una prima fase ecco anche il portale consap ha avuto un po di problemi adesso stiamo riuscendo a fare invii massivi abbiamo già fatto 8 mila caricamenti sul portale contiamo insomma nell'arco di un mese e mezzo un mese andare a caricare tutto sul portale ecco una cosa importante è che per il cliente noi nei momenti in cui il cliente ci ha fatto la richiesta di moratoria abbiamo posticipato le rate al 30 di novembre quindi c'è la diciamo attendiamo che consap ci dia la risposta ma il cliente naturalmente non ha la debito delle rate ecco un punto che volevo un po evidenziarvi su questo come sapete insomma il tema consap alcuni paletti il fatto di avere la possibilità di contributo sugli interessi ecco noi cerchiamo di fare in modo di seguire tutta la cosa nei momenti in cui per qualche motivo consap non rientra cliente in ciò che è stato stabilito o determinato andiamo a fare la moratoria abi o la moratoria commerciale e quindi diciamo il cliente comunque ha il tema della moratoria poi la tabella la tabella 11 mi pare successiva ecco la tabella 11 allora nella tabella 11 è tutta una tabella relativa ai tassi di interesse applicati tassi di interesse applicati nelle operazioni col fondo di garanzia o senza fondo di garanzia allora nella nelle prime due due righe della tabella vediamo le operazioni al di sotto dei 30 mila euro e qui si vede in modo chiaro che da aprile con l'entrata in vigore del decreto liquidità il tasso è diventato l'1.25 sotto i 30 mila euro per le operazioni garantite che vi dicevo prima sulle operazioni non garantite è sceso un po' è il 3 mezzo considerate però ecco per definire anche la magnitudo quantitativa al di là del tasso che in verità operazioni sotto i 30 mila euro non garantite in questi ultimi mesi abbiamo fatto adesso non saprei dire ma sono numeri veramente molto limitati perché la gran parte sono andati su operazioni garantite le altre nelle altre due tipologie cioè da 30 mila a 100 mila o da 100 mila a 200 mila vedete che il tasso delle operazioni garantite anche questo va un po a scendere da un caso a 270 a 250 e nell'altro caso rimane sostanzialmente analogo mentre invece il tasso dei finanziamenti soprattutto under 200 mila senza intervenzo di garanzia comunque un tasso del 2 per cento quindi i due tassi sono sostanzialmente analoghi ma anche qui la spiegazione con un senso logico da una parte bisogna considerare che oramai l'ottanta per cento delle operazioni che eroghiamo tutti i giorni abbiamo la spaccatura nel report sono fatte col fondo di garanzia effettivamente le operazioni con tassi molto buoni senza fondo di garanzia sono fatte da quella parte di clienti io ho visto il rating medio di questi clienti è il rating 2 quindi un rating ottimo quindi sono clienti che al di là di tutto sono quella parte di clienti che ha una forza contrattuale non ritiene non ha bisogno della garanzia in alcun modo e quindi riescono a avere un tasso un tasso positivo però ripeto le operazioni col fondo di garanzia da operazioni di nicchia sono diventati il cuore della attività nostra quotidiana le ultime due tabelle sono tabelle relative a un altro argomento l'argomento dei risultati dei ricorsi presso l'arbitro delle controverse finanziarie piuttosto che per l'arbitro bancario assicurativo ecco qui vedete i ricorsi che sono stati ricevuti quindi nello scorso esercizio ad esempio nel 2019 sono stati ricevuti dall'arbitro delle controverse finanziarie 41 ricorsi per un petitum di 2 milioni e 400 mila nel 2020 28 ricorsi eh l'arbitro assunto nel 2019 52 decisioni perché alcune erano relative a procedimenti instaurati nell'anno precedente 28 sono stati eh favorevoli eh alla alla banca per questa la richiesta era di un milione 100 24 sono state favorevoli al cliente con un eh un ristoro da parte della banca di eh di 645 mila euro e la banca naturalmente eh ha eseguito eh queste eh queste decisioni eh contrarie con la eh definizione eh altrettanto sul sulla parte eh della BF eh invece la la parte bancaria eh l'operatività è stata o più elevata e nel 2019 sono arrivati eh 300 ricorsi come come vedete sono state assunte 282 decisioni 153 eh favorevoli alla banca 129 favorevoli al cliente e eh le 129 sono state naturalmente eseguite. Ultimo punto eh ecco che esce un po' dalla dall'aspetto tabellare ma la la commissione eh ci ha chiesto insomma un contributo su alcune nostre eh idee sul 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 tema in in oggetto noi abbiamo eh cercato di eh dare idee molto eh pragmatiche, pratiche perché poi sono quelle che effettivamente vanno a a sostenere le aziende che poi l'interesse di tutti. Quindi la prima la abbiamo già citata prima è la proroga dell'articolo 56 al 31 gennaio che darebbe un sostegno. La seconda è il il tema degli 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 UTP o degli incagli quindi la possibilità di ricomprenderli in modo un po' più ampio nelle misure governative. Eh le misura la misura il decreto inizialmente non ricomprendeva eh gli eh UTP eh come come sapete come sapete fatti prima del 31 gennaio poi nella seconda invece eh eh c'è stata una una un primo una prima forma di ampliamento riteniamo che in qualche modo eh sostenere quelle aziende che eh comunque eh sono in difficoltà ma che hanno presentato già dei piani di rientro che magari non sono riusciti poi a sostenere per il tema del covid possa essere ecco una una riflessione eh di aiuto alle aziende e all'economia. Il terzo punto eh è su un po' ciò che sulla falsariga è stato fatto nella conversione del decreto sulle operazioni fino a 30 mila euro cioè valutare se eh anche per le operazioni oltre 30 mila euro eh la possibilità anche qui di eh di allungare le tempistiche perché è evidente che su alcune aziende avere un lasso di tempo più lungo quindi rate più basse e quant'altro dico sempre debito è ma è debito spalmato nel tempo e va ad aiutare. Ultimo punto eh è chiaro che tutti gli interventi che abbiamo citato prima per quanto positivi, per quanto di aiuto sono o la moratoria che posticipo nel nome stesso o debito che eh presto o tardi devo andare comunque a restituire. Su alcuni settori che sono quelli che conoscete tutti eh più colpiti dal turismo alla ristorazione. Sentivo prima il senatore c'era di Verona eh io tutte le sere passo dall'arena dalla banca all'arena era una piazza con migliaia di persone e adesso è una piazza semivuota. Eh è chiaro che per quei locali lì oltre al tema del del moratoria, del finanziamento una qualche forma di intervento nel capitale. Poi capitale qui può essere l'equity per le aziende più strutturate, può essere un contributo a fondo perduto con certi paletti, certe attenzioni per il ristorante piuttosto che per l'attività eh produttiva. Ecco questo penso sia un elemento che per il legislatore eh possa essere eh valutato. Ecco direi che questi sono un po' i punti. Grazie. Io ho un intervento. Il collega Pellegrini prego. Grazie presidente ehm innanzitutto voglio rimarcare la chiarezza eh con cui i due auditi ci hanno rappresentato la la situazione e quindi li ringrazio perché ci facilitano il lavoro. Mi volevo soffermare ma davvero brevemente sui dati che riguardano la liquidità. Noi avevamo dei dati in possesso se non sbaglio al 22 maggio che davano eh quindi per la liquidità eh con garanzia cento per cento dei valori che erano già comunque interessanti specie se raffrontati con quelli delle altre banche perché ci avevate eh un dato del 69 per cento del deliberato e il 53 per cento dell'erogato mentre per quelli sopra eh cioè con garanzia non cento per cento il il valore era più basso e eh esattamente era del quarantacinque per cento. Ora invece è salito eh direi in maniera significativa perché arrivate all'ottantanove per cento eh sempre con riferimento a quelli con garanzia eh cento per cento. La domanda che voglio fare è questa e riguarda il plafond di cinque miliardi di cui tre più uno più uno eh se non ricordo male eh eh lei dottor Poloni ha detto che ehm sono eh previsti quindi un piano di eh ammortamento di ventiquattro mesi giusto? Per questo per questo tipo di liquidità è così ricordo bene? Sì quella è la è la misura che è stata introdotta da subito prima ancora dei decreti di liquidità eccetera poi dopodiché si è data applicazione ai decreti di liquidità. Sì sì che è aggiuntiva dico è aggiuntiva eh eh è aggiuntiva o no? Cioè questa è la domanda che voglio fare. No non è aggiuntiva nel senso che in eh in attesa dei decreti di liquidità è stata messa a disposizione questa questa misura. Dopodiché una volta che sono intervenuti i decreti di liquidità si è data applicazione al decreto di liquidità quindi non si sommano le due cose. Perfetto quindi allora nella figura tre quella di pagina otto eh il ehm l'ultimo l'ultima colonna che quindi è il plafond il plafond di emergenza e liquidità da un eh erogazione di 685 milioni giusto? E' questo poi il dato finale cioè non avete ehm più utilizzato il il resto del plafond? È così? È corretto? Bene. E c'è intenzione da parte del dell'istituto di eh arricchire o di utilizzare eh questa somma che ha era stata immagino accantonata proprio per dare liquidità alle imprese o non o non c'è questa intenzione? Diciamo che da questo punto di vista verrà un po' anche come diceva prima il dottor Faisola verrà valutata anche un po' tempo per tempo anche in relazione alle misure che verranno diciamo così emanate dal governo se c'è prolungamento o meno di certe di certe misure con la garanzia eccetera continueremo ad andare nel solco. Viceversa magari valuteremo per i clienti se c'è bisogno di fare eh altre misure adottate dalla banca. Va bene io avrei finito se non eh grazie prima di aggiungere che anche la questione dei tassi che è venuta fuori credo che sia ci abbia dato come dire garanzia. Grazie. Grazie a lei. Senatore Ferro prego. Grazie Presidente. Ringrazio il dottor Poloni, il dottor Faisola vado subito alle domande. Mi riferisco alla figura due dove si vede l'area delle ripartizioni di quote di mercato praticamente nord-est e nord-ovest sono le aree tipiche eh anche provenienti dalle varie fusioni che lei ha citato prima. E da quello che emerge eh ventiquattro ore di qualche giorno fa nord-est e nord-ovest rischiano anzi ormai è confermato di essere aree che più di altre pagano e pagheranno gli effetti di lockdown e di eh io sono convinto anche che eh una volta eh finite eh le norme di salvaguardia sociale attualmente in essere ci sarà se non intervengono provvedimenti legislativi ad hoc ci sarà un ulteriore aggravio mi riferisco in particolare nel settore del turismo ricordato ma mi riferisco anche all'agricoltura e ahimè alle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto connettivo e portante eh di quella zona là. Ricordo per la provincia di Verona che ogni dieci abitanti c'è un'azienda iscritta alla Camera di Commercio per dare il senso dei dei numeri. Vengo a proprio delle domande specifiche per non farvi perdere tempo e per ringraziarvi comunque anche del contributo che ci avete dato sui temi di interesse strategici che ci avete consigliato alla fine nella pagina punto quattro e la parte finale della relazione del dottor Faisola. Entrando nel merito delle tabelle invece chiedevo alcune laddove si parla degli impieghi, il totale impieghi, se era possibile avere una distinzione tra impieghi alle aziende e alle famiglie e se nell'ambito degli impieghi alle aziende è possibile vedere quante sono per le piccole e medie imprese e quanti per le grandi imprese questo sarebbe interessante. La seconda domanda vado ecco non riesco a laddove c'è una tabella riassuntiva, questa che è su due pagine, adesso non c'è la numerazione quindi non so laddove si parla praticamente dei finanziamenti sotto i 30 mila, i finanziamenti aggiuntivi, i finanziamenti sopra i 30 mila. Nella pagina a lato c'è un tasso di interesse medio applicato che non riesco ma probabilmente per limiti miei a riconciliare con quello che ha letto lei nella pagina se poteva dirmi dove sta il trucchetto nel senso che o dove non capisco molto più probabilmente. L'altro chiarimento che chiedevo è laddove chiedete, laddove sempre c'è la tabella questa qui che parla di tassi di interesse medio applicato ai finanziamenti erogati. Nella distinzione specifica fatte sotto i 30 mila, tra i 30 e i 100, tra i 30 e i 100 con e senza garanzia, tra i 100 e i 200. È possibile avere qualche dato ultroneo nel senso che molto probabilmente, parlando anche di medie imprese nel nord-est, avete erogato finanziamenti oltre i 200 mila euro se c'è un tasso medio e se questo dato è disponibile oppure no. Termino con una domanda che ho posto anche a tutti i vostri colleghi che sono stati auditi. è il tema del rating riconosciuto alle imprese, nel senso che questi finanziamenti nella valutazione che la banca e l'istituto fa peggiorano i reti dell'impresa nelle valutazioni che fate voi oppure lo migliorano? Perché una delle proposte che il nostro gruppo aveva fatto era quello di dire che dovevano essere nel limite del possibile bloccati i reti in prima dei fenomeni di Covid perché sicuramente un peggioramento oggettivamente c'è stato e se questi vanno a influire con una situazione già precaria poi quello che è il costo della provvista per l'impresa è sicuramente aumentato. Sugli OTP non ho capito bene, ma ripeto probabilmente per un limite mio, il fatto che chiedete che siano reintrodotti nelle normative di salvaguardia perché lo diceva il dottor Poloni ecco volevo se poteva ecco proprio su questo perché stiamo parlando di un probability to pay e quindi dire che sono in Cagli già, siete già un po' troppo avanti magari in momento di difficoltà temporanea cioè voglio dire se le facciamo entrare in una situazione pseudo patologica già emettiamo un giudizio a mio parere negativo aggravato dalla contingenza Covid perché questa è la situazione, sono tutti elementi che concorrono alla fine a peggiorare una situazione che se era moritura prima del Covid adesso lo è certamente ma se aveva possibilità pur nella difficoltà di superare la crisi se gli OTP aggravano dal punto di vista del merito creditizio vorrei subito sgomberare un campo, io sono perché le banche facciano la valutazione del merito creditizio se no diventa una situazione. L'ultimissima domanda perché così pochi fondi sacce, perché così pochi rispetto alle altre banche perché la banca ha fatto una scelta magari di, o perché non ci sono richieste mi risulta strano proprio, parlo del nord-est dove ci sono imprese che insomma hanno bisogno di e sono fondi significativi. Ho finito. Un attimo, vabbè ho finito gli interventi una domanda aggiuntiva se la banca ha sempre eseguito le decisioni dell'ABF e dell'ACF prego, altri interventi Allora, dico io due cose sugli OTP poi lascio la parola allo dottor Faisola per le ulteriori domande del senatore Ferro poi magari giaccio la parola ma rispondo anche alla domanda che ha fatto la presidente Allora, per quello che riguarda gli OTP la nostra preoccupazione è esattamente la sua e quindi rispetto anche all'evoluzione normativa che c'è stata proprio recentissimamente di maggior tutela per gli unlucky to pay allora qui il tema è che noi siamo cresciuti con una classificazione del credito che aveva il bonus, il problematico e le sofferenze poi ormai tutta la nuova disciplina e spesso non rende facilmente traducibile in italiano queste parole chiamiamoli OTP così siamo sicuri di non sbagliare cioè qui il tema qual è? che al di là delle fattispecie e caratteristiche già previste se fosse possibile allargare le tutele previste proprio per evitare che da una parte peggiori il rating del cliente dall'altra parte lo si metta proprio in difficoltà perché comunque dietro c'erano aziende, imprenditori, posti di lavoro eccetera che stavano seguendo un programma di rientro, di ritorno in bonus eccetera che ai noi colpiti da questi accidenti che ci sono stati e quindi questo certamente per favorire l'economia locale e per favorire anche poi la capacità anche della banca di dare risposta in questa direzione quindi la nostra richiesta, il nostro suggerimento, il nostro punto di vista è quello di allargare il più possibile la tutela di queste imprese e quindi dei clienti che ci sono dietro con le loro imprese verissimo quello che diceva lei con un riferimento al tessuto economico che è un tessuto economico che caratterizza quelle regioni ma diciamo così caratterizza poi anche più in generale il nostro paese le richieste non è un'opzione nostra sono quelle che sono pervenute rispetto alla possibilità di finanziamento che comunque queste aziende strutturate eccetera riescono ad ottenere e poi sulle altre cose lascio la parola al dottor Faisola con riferimento se ho capito bene la domanda della Presidente Ruoco allora la banca adempie a quelle che sono per onor di precisione nel 2017 lei vedrà che ci sono due decisioni che abbiamo classificato non eseguite allora qui si tratta di due decisioni molto specifiche allora la prima in realtà era una condanna chiamiamola così a produrre un contratto della documentazione del cliente che purtroppo non è stata materialmente più reperita nell'ambito della filiale quindi nostro malgrado era soltanto la produzione di questa documentazione che non è stato possibile rinvenire la seconda era una decisione in base alla quale noi dovevamo ricalcolare gli interessi la decisione non dava i parametri del ricalcolo degli interessi noi abbiamo fatto il ricalcolo degli interessi come ritenevamo che dovesse essere fatto il cliente ha contestato il ricalcolo degli interessi così come è fatto e quindi diciamo siamo in quella però in tutti gli altri casi naturalmente il numero delle controversie proposte ogni anno col numero delle decisioni sia favorevoli che sfavorevoli ovviamente non quadra perché vanno a decisione anche quelle presentate negli anni precedenti ecco non so se Matteo due o tre punti precisi che sono stati posti allora il tema dei tassi nella tabella 9 piuttosto che nella tabella 11 allora i tassi dei finanziamenti over 30 nella tabella 9 sono relative a tutti i finanziamenti quindi i finanziamenti hanno un taglio medio di 500.000 euro quindi questi sono i tassi medi che abbiamo applicato su tutte le operazioni over 30 ripeto sono operazioni che hanno un taglio medio di 500.000 euro il tasso come vedete 1,48, 41, 1,63 in sostanza il tasso medio che noi abbiamo applicato è di 1,55 il tasso medio su tutte le operazioni over 30 è di 1,55 come dicevo prima ha un calo prima era intorno al 2 quindi per essere proprio pratici 45 basis point la seconda mentre invece la tabella 11 è relativa ai finanziamenti fino a 200.000 euro quindi il target di finanziamenti più piccoli rispetto al medio relativamente agli impieghi la domanda degli impieghi noi abbiamo circa 30 miliardi di euro di impieghi sulle imprese retail quindi dal 100.000 euro di fatturata a 75 milioni che poi a loro volta sono spacchettati in tre segmenti piccoli operatori con Oswald, Business Chair ne abbiamo altri tanti sul corporate quindi da 75 a infinito e ne abbiamo 26 miliardi di mutui mutui casa quindi poi ci sono un po' istituzionali però le tre macro categorie produttive sono queste sul tema di SAC c'è solo una cosa qui ci sono le operazioni erogate noi abbiamo già deliberato in pipeline cioè insomma in istruttore perché SAC sono operazioni insomma molto complesse è uscito il protocollo quindi queste sono le operazioni erogate c'è un miliardo di euro di operazioni taglio medio di 10 milioni quindi sono 100 operazioni che verranno erogate quindi l'intervento della banca va letto a tendere ad oggi in base alle pratiche o già deliberate o in istruttoria sul miliardo e 200 milioni di euro su SAC Allora io non ho altri interventi quindi ringrazio i nostri ospiti e ci vediamo presto grazie della relazione dettagliata Grazie, arrivederci Grazie Comunico che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 23 luglio ha convenuto sull'opportunità che la commissione si avvalga della collaborazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento interno in qualità di consulente dell'avvocato Antonio Tanza Presidente nazionale ad USBEF scelto tra le personalità di riconosciuto indipendenza e comprovata competenza e esperienza sulla specifica materia degli strumenti finanziari derivati Le audizioni della prossima settimana MPS, BPR e UBI avranno luogo mercoledì 5 agosto in orario che sarà definito in base ai lavori delle aule di Camera e Senato La seduta è tolta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti